E il 15 gennaio, la data ultima entro cui trasmettere la domanda di accesso ai contributi statali. Persone e attività economicamente danneggiate dalle restrizioni anticontagio dovranno farne richiesta in via telematica tramite il portale Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi ha usufruito delle misure previste dal decreto rilancio a primavera, anche con il decreto ristori potrà contare sulla stessa cifra, moltiplicata per una percentuale che va dal 50 al 400% a seconda della categoria. Chi invece non ha ancora ricevuto nulla dovrà mettere a confronto il fatturato di aprile 2020 con quello dello stesso mese nel 2019. Verrà quindi erogata la differenza con un rincaro del 20% se i ricavi dell'anno scorso sono inferiori a 400 mila euro del 15%, se i ricavi vanno da 400 mila a un milione di euro del 10% se superano il milione. Il risultato andrà poi moltiplicato per una percentuale dal 50 al 400% per questa seconda fase di aiuti. Il contributo minimo per le persone fisiche di 1000 euro, 2000 per le imprese. In zona rossa gelaterie, pasticcerie, bar e altre attività simili, comprese quelle ambulanti, riceveranno un'ulteriore integrazione del 50%. Aiuti anche per le partite IVA, comprese quelle che fanno riferimento ai soggetti più ricchi. Nel decreto ristori infatti è scomparso il tetto massimo di 5 milioni di ricavi nel 2019, che era inizialmente previsto nel decreto rilancio. Ma il contributo arriverà solo se la partita IVA è stata attivata prima del 25 ottobre 2019 e se tra aprile 2020 e aprile 2019 c'è stata una differenza di fatturato di almeno un terzo. Per chi ha già ricevuto aiuti, i nuovi contributi saranno accreditati direttamente sul conto corrente. Vi è poi il ristori bis, che vale solo per le restrizioni a seguito del DPCM del 3 novembre, come ad esempio nella zona rossa abruzzese, e i cui aiuti non sono soggetti a tassazione. Il criterio per valutare l'ammontare dei contributi è sempre lo stesso. Nella prima fase va calcolata la differenza di fatturato tra aprile di quest'anno e quello dell'anno scorso, con un rincaro del 20, del 15 o del 10% a seconda se il fatturato dello scorso anno è inferiore a 400.000 euro, va da 400.000 al milione di euro o supera il milione, mentre nella seconda fase vi è un rincaro che va dal 50 al 400% a seconda delle categorie. Chi invece ha già avuto accesso agli aiuti del decreto ristori avrà la stessa somma, con un'aggiunta che varia dal 10 al 20% e anche per le partite IVA il procedimento è lo stesso del decreto precedente. Ad ogni modo l'importo massimo erogabile non può mai superare i 150.000 euro. E a questi contributi dovrebbero poi aggiungersi quelli regionali. L'aggiunta Marsilo è al lavoro per il cura Abruzzo 3. Non stiamo lavorando su un nuovo intervento, il cura Abruzzo 3, su cui abbiamo individuato alcune sacche di interventi che non sono coperti da quelli che sono i ristori nazionali o comunque li andiamo sicuramente ad integrare, perché purtroppo qui la pandemia con lungo durare sta creando un disagio economico molto rilevante. Contestualmente stiamo andando avanti con i pagamenti e con le liquidazioni rispetto a quello che abbiamo già fatto, rispetto al famoso fondo perduto, la prima tranche 19 milioni, 22.000 pratiche consegnate, abbiamo già liquidato 6.900 aziende, ieri sono state inoltrate al tesoriere altre 4.000 pratiche, speriamo che entro noi dipartano anche questi altri bonifici, quindi diciamo come abbiamo sostenuto, prima di Natale contiamo di liquidare la prima tranche. Contemporaneamente stiamo lavorando sugli altri 30 milioni, altre 41.000 pratiche che hanno bisogno di tempi leggermente più lunghi, ma comunque adesso con la tech force che ci è stata data tramite la fila riusciremo ad accelerare notevolmente.